Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social e del canale YouTube. Vi ricordo sempre il segui per quanto riguarda i social, così diventiamo in tanti, e anche iscrivetevi al mio canale YouTube Figlio Arpotico 65. Oggi andiamo a parlare di un argomento che sicuramente ha fatto parlare molto in questi ultimi giorni, soprattutto dopo le battute che ha fatto Bianca Berlinguer, nel suo programma è sempre carta bianca, che va in onda sulle reti Mediaset. Ricordiamo che è stato fatto un contratto a Bianca Berlinguer di 600.000 euro all'anno e gli hanno dato libertà di invitare chi vuole. Praticamente soltanto come ospiti ogni puntata costa 25.000 euro solo di ospiti. Quindi un prezzo o un costo, se possiamo dire, un po' troppo alto per uno share minimo del 9%, vale a dire 1.200.000 persone guardano questo programma. Tendo conto che in Rai prendeva un terzo, vale a dire 240.000 euro, e ogni puntata costava soltanto 56.000 euro, quindi gli ospiti venivano pagati molto meno, è chiaro che adesso in Mediaset cominciano a farsi un po' di conti in tasca. Ma non è tanto questo il problema, amici miei. Il problema è un altro. E pare che una delle ospiti, intanto vi dico più o meno quanto prendono gli ospiti all'interno di E' sempre carta bianca, quello il programma di Bianca Berlinguer. Per esempio, uno come Andrea Scansi, che lavora per il Fatto Quotidiano, di cui hai vietato in maniera assoluta la presenza e anche di nominare il suo direttore Marco Travaglio, gli dai per quei 10 minuti, 5 minuti, 1.500 euro a puntata. Comunista e grillino. Per quanto riguarda Concita De Gregorio, direttrice per tanto tempo dell'Unità, il giornale ufficiale del PD, sempre legata ai giornali di sinistra, in particolare adesso di Repubblica, gli dai 1.700 euro ad ogni puntata. Gad Lerner, storico, 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 sparatore di balle contro Silvio Berlusconi, quando stava sulla 7, nei programmi di Floris, Formiglia, eccetera, Gad Lerner ha sparato di tutto contro Silvio Berlusconi, gli dai addirittura, ad ogni presenza, 2.000 euro a puntata. tenendo conto che i direttori di giornali sempre di sinistra prendono quasi 3.000 euro a puntata, e poi c'è lo scrittore, il più simpatico credo della compagnia, Mauro Corona, che va a prendere 500 euro a puntata. Lo share è troppo basso, tenendo conto che fai il 9%, mentre in Rai, tu costando soltanto 240.000 euro facevi il 7%, la differenza è minima, non ne vale la candela. Ma che cosa è successo? È successo che a una precisa domanda di Concita De Gregorio a Bianca Berlinguer, come stai, lei avrebbe detto, sono queste le parole, per non sbagliare, sono felice più di te di averti qua in una situazione per me non proprio facile. Non sono a casa mia, anche perché ho fatto 34 anni di Rai, e quindi ero filo aziendale. Lavorava su Rai 3, storicamente in mano alla sinistra da sempre, qualsiasi governo c'è stato, se c'era centrosinistra, ne erano tutte e tre le reti in mano centrosinistra, ma se c'era qualche volta, per esempio, con il presenso del Consiglio, Silvio Berlusconi, c'era la concessione di lasciare Rai 3 in mano all'opposizione, e quindi alla sinistra. Ha sempre lavorato nella sinistra, ma poi, di cosa stiamo parlando ragazzi? Questa ha fatto la direttrice del Tg3, addirittura, del Tg3, e prendeva 280.000 euro. Per carta bianca, abbiamo detto, ne prendeva 240.000. Gli ha fatto un contratto, caro Persivio, di 600.000 euro, quasi del triplo, per avere che cosa? Per essere insultato in trasmissione. Infatti non vieni chiamato più Persivio Berlusconi, ma Persivio Berlingueroni. Berlingueroni. Quindi ti prendono anche per il culo. Di chi era figlia, tanto per renderci conto, Bianca Berlinguer? Bianca Berlinguer, addirittura, era figlia di uno dei più grandi statisti della storia italiana. Lo dico che, anche se è di sinistra, parliamo di Enrico Berlinguer, addirittura importante quanto è stato Palmiro Togliatti, e quanto è stato il fondatore del Partito Comunista negli anni 20 dello scorso secolo, Antonio Gramsci. È entrato nel Partito Comunista nel 1962, diventa segretario nel 1972 e muore giovane a 62 anni nel 1984 durante un comisio. Gli venne ictus e muore. Io ricordo ancora i funerali di Enrico Berlinguer. Ero piccolo, ricordo. La gente che c'era, milioni e milioni di gente, che guardavano perché era un bravo politico e si faceva fare bene. Tanto è vero che portò il Partito Comunista, mi ricordo all'epoca, nel 1976, a giocarsela alle elezioni con l'allora fortissima democrazia cristiana, quindi che aveva dietro l'opus Dei e aveva dentro anche il Papa di allora, Paolo VI. Che cosa vogliamo dire? Che in questo caso, vedendo che Pessivo e Pellusconi sta facendo acqua da tutte le parti e perde soldi con, per esempio, con il Grande Fratello, perde soldi con Pomeriggio 5, fai un programma tutto di sinistra, voglio dire, in delle reti che sono legate al governo Meloni, a questo punto che succede? Che il governo Meloni chiama la sorella di Pessivo Berlusconi, Marina Berlusconi, il vero cervello della famiglia Berlusconi, perché tenendo conto che mentre lui in tre anni, per Silvio Berlingueroni, ha perso 800 milioni di euro di fatturato, 800 milioni di euro, lei che è l'amministratore unico di Mondadori, ha fatto aumentare il capitale di Mondadori in tre anni del 30%. Immaginate quanto è capace e brava Marina Berlinguer. Allora, a questo punto, siccome le decisioni vengono prese in due, perché hanno il 52% delle azioni di Mediaset, quindi le decisioni vengono prese insieme, è vero che l'amministratore delegato è per Silvio Berlusconi, o Berlingueroni, ma le decisioni le prendono insieme. Allora, a questo punto parlo io. Se questa continua a fare così, io la voglio cacciare via. Infatti, Marina Berlusconi vuole cacciare via Bianca Berlinguer, perché non ne vale la pena, sotto il punto di vista dei costi, e soprattutto dal punto di vista della presentazione al popolo di centro-destra, perché abbiamo il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica, che è filo aziendale, abbiamo Mario Giordano, fuori dal coro, che è filo aziendale, abbiamo Paolo Del Debbio, il più bravo di tutti, con diritto e rovescio, che fa il giovedì e la domenica anche, e poi c'è questa mosca rossa all'interno del programma. Ma il fatto è che invita gente che fino a ieri ha sparato a zero contro tuo padre, gli ha detto Marina Berlusconi, appessivo Berlusconi, e tu non puoi pretendere una cosa del genere sulle reti nazionali, sulle reti nostre, soprattutto su Rete 4, che è quella che soprattutto fa dibattiti, cronaca, politica, eccetera. Allora, io ho intenzione, se fosse per me, di mandarla via, magari lasciargli una, due puntate altre, poi rompere, rescindere il contratto e mandarla via. Infatti è accordo fra due fratelli che le decisioni vengono prese insieme, anche se poi risulta per Silvio, e vengono prese cinque giorni prima del consiglio di amministrazione. E quindi lei ha deciso, parlando al fratello, che vuole mandarla via. Cioè, non c'è possibilità di ritorno, vedendo che è un programma fortemente di sinistra, con ospiti di sinistra, che sparano anche sul governo Meloni all'interno di Mediaset, e quindi questo è il massimo. Il governo Meloni sta facendo pressioni molto forti su Persifo Berlusconi, e soprattutto su Marina Berlusconi, che è il cervello della famiglia, lo ripeto, e per questo, vuol dire, si sta arrivando a cacciare Bianca Berlinguer da Mediaset, perché non ci sono più le condizioni che continui il suo rapporto con la famiglia Berlusconi e con l'amministrazione di Mediaset. Che cosa succede adesso? Succede adesso che o cambia, o cambia linea editoriale, Bianca Berlinguer, e non credo che faccia questo, perché è di sinistra, rimane di sinistra, e si invita gli ospiti di sinistra, perché tu, stronzo di Persifo Berlusconi, gli hai fatto fare il contratto che può invitare chi vuole, quindi chiaramente quella invita gli amici suoi, tu gli dai 1.500 euro appuntata ad Andrea Scanzi, che se tu lo senti sui canali YouTube e su Facebook, non fa altro che sparare a zero contro il governo Meloni, vuol dire, dimentichi che tuo padre ti ha lasciato una scrittura privata alla famiglia di continuare a finanziare la segreteria nazionale di Forza Italia, di cosa stiamo parlando? Ha un contrasenso, poi tra l'altro si dice che all'interno dello studio abbia creato una specie di terrore, praticamente si gira malissimo Bianca Berlinguer con tutti gli operatori, con i fonici, con gli elettricisti, i quali hanno paura, hanno davvero paura di lavorare in quel programma, perché non sono i suoi fonici, non sono i suoi operatori, tendo conto che dalla RAI Bianca Berlinguer è stata cacciata, perché lei è andata e ha chiesto alla RAI di fare un programma quotidiano, voleva una fascia quotidiana, andare in onda magari ogni giorno con minori minuti, con minori minuti per andare ogni giorno, ha detto no, o fai carta bianca o vai via, e si è andata. La stessa proposta ha fatto a Pessivo Berlusconi, quale non solamente gli ha dato il triplo di quanto prendeva il RAI, gli ha dato, è sempre carta bianca, con la facoltà di invitare chi vuole, chiaramente si invita tutta gente di sinistra, in più, gli ha dato anche la possibilità di condurre tra poco, stasera Italia, la fascia quotidiana, in cui dovrebbe prendere circa 800.000 euro all'anno. Su questo fatto, è intervenuta Marina Berlusconi, sicuramente sollecitata anche da Giorgia Meloni, ha detto basta, adesso stiamo superando il limite, capisco che può fare un programma anche di rottura rispetto agli altri tre, però non rottura, in questo senso, non le rotture di palle, in questo senso. Allora, Bianca Berlinguer prende 600.000 euro e sputa nel piatto in cui mangia, e Marina Berlusconi vuole mandarla via, è tentata a mandarla via. Che cosa succederà? Lo vedremo nei prossimi giorni. Già dalle prossime puntate vediamo come si, cosa si evincerà, cosa succederà, che in testa cosa porterà di fare, voglio dire, Bianca Berlinguer se sottostare al nuovo diktat della famiglia Berlusconi oppure rischiare il licenziamento e continuare a fare quello che vuole. Amici miei, ricordate sempre il segui sui social e anche l'iscrizione al canale YouTube di FidioAlProdigo65. Vi ricordo anche che su Facebook io ho la mia pagina che è AquilaScoop, quindi Giuseppe Aquila, AquilaScoop. Vi ringrazio di essere in tanti, vi voglio bene, vi abbraccio, alla prossima amici miei. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno.